L'Italia era stata unificata da tre anni e a Pistoia, parallelamente all'apertura della linea ferroviaria Porrettana-Bologna-Firenze, entrava in esercizio una delle più importanti infrastrutture ferroviarie del paese. È il deposito rotabile storici, snodo decisivo per il passaggio tra nord e sud d'Italia. Questa mattina al taglio del nastro, alla presenza delle autorità per inaugurare i lavori di restauro di alcuni locali del deposito dove tutt'oggi, unico in Italia, continuano ad essere riparate le locomotive a vapore. Qui ci sono dei lavori che riguardano locomotive, vagoni, che rappresentano la storia secolare della ferrovia, della mobilità su ferro in Italia, ma si lega soprattutto a una novità che è la legge, ci stiamo lavorando con il Ministero Beni Culturali ora per fare i decreti attuativi, la legge sulle ferrovie storiche. Si somma alle ciclovie neofinanziate dal governo, le troverete anche nella legge di stabilità e assieme diventano un reticolo di strade, gomma leggera, bicicletta e ferro, quindi ambiente, paesaggio eccetera, da valorizzare con una base importante a Pistoia. Le locomotive a vapore, qui mantenute e restaurate, infatti serviranno per lo sviluppo del turismo ferroviario, oggi ammontano ad oltre 550 i chilometri di binari senza tempo recuperati a scopi turistici. Il piano di interventi di restauro di cui si è occupata la Direzione Territoriale Produzione di Rete Ferroviaria Italiana ha interessato la zona ovest con l'ex capannone Tie, la zona nord-est con l'area destinata a Museo Ferroviario, la zona sud-est con l'Officina per la Manutenzione dei Rotabili e il piazzale ferroviario nel suo complesso. Nell'anno di Pistoia, capitale della cultura italiana, questa inaugurazione corona la città, anche capitale del treno. È una giornata prima di tutto autentica perché rinnova la tradizione di Pistoia come capitale del treno, costruzione di materiale ferroviario. Noi oggi in realtà non inauguriamo solo un museo o qualcosa di statico e di polveroso, inauguriamo un vero e proprio esempio di archeologia industriale vivente, l'unico impianto in Italia dove ancora si manutengono, si restaurano le caldaie delle locomotive a vapore. È anche questa un'attività proiettata, sembrerà strano, ma verso il futuro. Le locomotive che da Pistoia escono ringiovanite vanno poi in tutta Italia per percorrere nei fine settimana gli itinerari turistici più affascinanti che la Fondazione FS ha riattivato negli ultimi tre anni. Camminare per il deposito tra locomotive elettriche a vapore e vetture antiguerra, 65 in totale quelle qui in assegnazioni, è un po' come fare un salto nel passato e nella storia di questo paese. La vettura, la cosiddetta Livrea, Castano Isabella, cioè in cui abbiamo questo colore Castano più scuro e questa fascia cosiddetta Isabella che è un marrone più chiaro, è una colorazione tipica dei treni italiani, mentre la Livrea Verde, Vagone, piuttosto che altri diversi, erano comuni alle altre reti europee, i treni italiani dal 1936 fino alla fine degli anni 60 si sono contraddistinti per questo particolare tipo di Livrea. Grazie. 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 Grazie.